L'azione della regina ha perso di mordente anche in virtù del risultato che penalizza la squadra ospite oltre le sue reali colpe. La Fiorentina in effetti furono un giocando benissimo è riuscita a trafiggere per tre volte la squadra speciale con gli spagnoli di Ruiz Ma se anche non si è tutto perdito ora In questo momento il gioco è sospeso per per... Certo che se fosse per questo cazzo da capannone mi parerebbe di stare a Tricoglia Ma chissà di, ma Tricoglia è morto meglio Me lo fai un favore, fai? Te le felici questi? A me manco le piacevano Ma mortacci tu, te le sei mangiata due chili e mo me lasci questi quattro Non vorrei esagerare perché poi ce lo sai Mi si ammappano sul fegato e mi fanno venire la sonnolenza La linea va dunque allo stadio olimpico Lazio Inter, Bruno Gentili Oh, sveglia da adesso, che dovemo cufa' contro Lazio Sul panorama è separato anche Maldini L'azione da parte della formazione del Mivan Vai, 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 forza Milan Mi scusi, ma il Milan non gioca stasera? Sì, sì, stasera, Milan-Roma, in posticipo Allora questa partita cos'è? Milan-Steovo-Buccarest, Coppa dei Campioni del 1989 Ah, eccomi pareva Beh, abbiamo fatto un Buccarest così, 4-0 Ma se vuole gliela cambio Perché io ho registrato tutte le partite del Milan Sono dieci anni che le registro Io intanto volevo chiedervi una roba, scusate Ma Franco Baresi, come mai non è stato bianificato? Con tutti i miracoli che ha fatto in difesa? Scusate, scusate, meditate Milan-Milan-Milan-Milan-Milan-Milan-Milan-Milan Ma che fa' risulta per un gol di dieci anni fa? Sì, Milan-Milan-Milan-Milan-Milan-Milan-Milan Vita, 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 Vita E' stato proprio un miracolo Suor Maria, chi sei fatto male? Sempre cuo stronzo de zacche E non i 4 di mortaggi Irovanari! No! Che fa' che ti spunno come al muro del Berlino? Ma che fa', scappa Sono atei Atei Via, 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 croci, via, croci